Il premio Strega, molte polemiche anche nell'ultima edizione. Ma è inevitabile, perché ad esempio se noi guardiamo bene, il premio Strega è il premio letterario che ha un maggiore impatto e prestigio e nelle ultime tre edizioni è stato assegnato a dei libri che hanno vinto solo grazie a evidenti pressioni delle case editrici. Se non sbaglio, guardando anche che secondo me rende abbastanza l'idea di quello che è la caratura in questo momento del premio Strega, il premio Strega negli ultimi tre anni è stato vinto da Caos Calmo, di chi si è detto già prima, da Come Dio comanda, di Ammaniti, di cui poi è arrivato il film di Salvatore che sta per uscire e proprio quest'anno è stato vinto da Paolo Giordano, La solitudine dei numeri primi. Ofcock, quest'ultima dava vita a un vero e proprio evento, diciamo mediatico e tutto visto il successo anche sotto il profilo delle vendite. Come voleva dimostrare, non è per il gusto della critica altranza stasera, ma in questo libro ogni parola di questo romanzo sembra voler accondiscendere un pubblico trasversale. Certo, per tutti. È un'opera incerta, sicuramente senza spessore umano e artistico. Eppure c'è anche la prosa stessa, che dovrebbe avere un suo timbo di fabbrica. Non ha un timbo di fabbrica, non è un timbo di fabbrica, perché evidentemente ha più fabbriche. Ha ragione, dottor Trette, sembra quasi scritta a più umani. L'impressione hanno un po' tutti. Io l'ho letto, sbaglio se dico che manca l'anima in questo romanzo che si prefigge proprio di indagare sull'anima. Cattalutti? Ma direi proprio che non sbaglia, perché se il cuore, l'indole dello scrittore si misura sulla vibrazione dei propri personaggi... Quello sempre. Qui non ci siamo, non ci sono protagonisti, ma ci sono solo delle sbiadite marionette. Sì, si vede anche secondo me. Sì, e poi mi sembra sia una storia falsa, prefabbricata, insomma non male, malissimo. Benissimo, Trette invece? È un giochetto ormai semplice, primitivo, vecchio quanto il cucco. Hanno messo in quel romanzo tutti gli ingredienti per farlo piacere alla maggior parte del pubblico. È un cliché già visto e revisto. Già Melissa P, a suo tempo, aveva insegnato. In modo magari più primitivo, però... Assolutamente. Sono d'accordo, sono d'accordo un po' su tutto. Permettetemi però, almeno stasera, di fare solo una volta, di divagare un attimo da quello che è il nostro modo di fare televisione oggi. Solo questa divagazione, poi ritorniamo a normali, con una televisione che piace a voi formalmente. Io dico che secondo me il romanzo di Paolo Giordano, La solitudine dei numeri primi, è una cagata pazzesca. Bravo! Torniamo qua in questa quarta puntata della Tana e dei Tigri completamente trasfigurata, ma non è di peso da noi. O perlomeno abbiamo deciso di adottare quelle che sono certe forme che piacciono a molte persone. Non in particolar modo a noi, ma comunque questa è la dinamica di stasera. Allora, domande finali. Come al solito, massimo sincerità, come comunque sempre il nostro stile. Perché potrete cambiare le nostre forme, ma non potrete cambiare mai i nostri contenuti. Allora, dottor Cantalutti, quanta fantasia ci vuole per sentirsi in due? In un rapporto di coppia? Ma senta, per vivere in due all'interno di una coppia ci vuole molta fantasia, ma per vivere da soli ce ne vuole molta di più. Anche secondo me. È possibile vivere al giorno d'oggi senza essere ipocriti con gli altri? Purtroppo no, però è possibile non esserlo con se stessi, ammettendo di essere appunto ipocriti con gli altri. Dottor Focca, esiste l'amicizia? Non lo so se esiste l'amicizia. So che esistono dei momenti in cui ci si sente veramente amici. Cantalutti, il programma è Artù, di Gianni Gnocchi. Ma senta, proprio non decolla, troppi tempi morti, costruito all'eccesso, faticoso, direi non brillante, naturalmente, eppure autodefinendosi un talk show, in realtà non lo è proprio. È un programma comico fatto su misura per il suo autore, fra l'altro è bravo, ma... Certo, no, bravissimo. Riepilogando, Trettel, il successo ad oggi è meritocratico? Assolutamente no. Direi anzi quasi il contrario, cioè che uno quando ottiene il successo è quasi garanzia che l'ha ottenuto senza merito. Focca, in una relazione si può essere se stessi? Le storie d'amore iniziano quando noi nascondiamo all'altro come siamo veramente, mentre finiscono quando l'altro scopre come siamo veramente. Va bene, no, no, fermi tutti, ne parlavamo prima, quando Morcia scrive un romanzo almeno è in buona fede o sa che sta toccando delle corde sensibili di un certo tipo di pubblico, cioè per ottenere un fascio di guadagno? Io credo che sia assolutamente consapevole del gioco a cui sta giocando, per conto proprio e di terzi. Una persona adulta non può pensare e scrivere quelle cose senza secondi fini. Nel modo anche cui descrive. Grandi polemiche intorno al film Miracola Sant'Anna, accuse di revisionismo. È la classica tempesta in un bicchiere d'acqua. È un film bruttissimo, caotico e sconnesso. La ricostruzione storica è assolutamente secondaria. È come se noi guardassimo un film di Pierino e ci chiedessimo se Pierino era fascista o comunista. Assolutamente fuori l'acqua. Anche se non è un film incredibile, negativo. Mentre per quanto riguarda i film di Natale, De Sica per intendersi? Qui il discorso è diverso. Loro ti dicono che noi qui facciamo vedere tette, culi e scuregge. Se vuoi vedere tette, culi e scuregge, vai a vedere. Non c'è trucco e non c'è inganno. Anche secondo me. Nessun applauso anche per questa volta. Questa puntata così strana della Tana dei Tigri sta per concludersi. Ma ricordatevi una cosa. Comunque vada, non importa chi vince, comunque vada, lo squadrone siamo noi. Lo squadrone siamo noi.